Ciao a tutti e bentornati nel mio canale allora scusate se nemmeno oggi mi faccio vedere ma veramente sono in condizioni pietose però questo video ci tenevo tantissimo a farlo per tanti motivi prima di tutto grazie per essere arrivati a 40.000 iscritti anzi 40.000 e basta iscritti perché li abbiamo anche superati e niente il mio canale ha poco più di un anno e mezzo e ho già raggiunto 40.000 iscritti che veramente cioè non lo so per me sono un traguardo enorme quindi grazie 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 poi è il compleanno di Samuel oggi che è primo agosto che voi state vedendo questo video Samuel compie un anno avrei voluto fare un video con lui proprio perché è il suo compleanno ma Samuel in realtà in questo momento è in un pacco perché praticamente lo devo ridare a Jennifer che è praticamente la sua artista con lei che l'ha creato perché loro dovrà un attimo restaurare essendo stata appunto la sua prima creazione che risale ad un anno fa quando lei ha cominciato a creare bambole e ovviamente ha delle imperfezioni proprio perché è stata la prima reborn che le ha creato quindi ancora non era diciamo esperta quanto lo è adesso quindi glielo sto ridando in modo che lo restaurerà e poi vi farò un altro video unboxing dove appunto ve lo farò vedere ma in questo momento ho qui Nina che è la mia nuova reborn ve l'ho fatta vedere nel precedente video unboxing quindi è lei che in questo momento ha indosso questo pagliaccetto che appunto ci ha regalato Jennifer il suo ciuccio che adesso tra l'altro le toglierò e questa fascia qui mi avete detto che vi piace tantissimo e anche a me piace tantissimo lei perché veramente secondo me è una delle più belle che ho anche se adoro Sofia e Samuel però lei è troppo bella cioè guardatela veramente bella e oggi appunto volevo fare con lei un videocambio per parlarvi un po' di tante cose ed è un po' di tempo anche che non vedete Matilde io intanto comincio a spogliare lei ed è un po' di tempo anche dicevo che non vedete Matilde ma tranquilli perché innanzitutto dobbiamo fare il tanto atteso video ask sotto al video appunto dove annunciavamo l'ask ci avete lasciato tantissime domande a cui ovviamente vogliamo rispondere quindi appena vedrò Matilde perché adesso per impegni miei e suoi non ci stiamo vedendo ma appena appunto la vedrò ci sarà immediatamente il video ask e poi vi dovrò annunciare tante piccole cose per quanto riguarda il raduno che farò forse con Jennifer anche se in questo momento ci sono vari problemi purtroppo per lei quindi non sappiamo se riusciremo a tempi brevi e con tempi brevi a fare appunto un raduno però quando ci sarà spero ma chissà quando ma in ogni caso prima o poi ci sarà un raduno a tema Reborn dove le venderemo dal vivo queste bellissime creature cioè guardate quanto è carina col body cioè forse per me la lascere solo così è troppo bella quindi appena sarà possibile faremo assolutamente un raduno a tema bambole Reborn in modo che le vendiamo anche dal vivo potete anche venire solo a vederle non per forza a comprarle ecco e niente comunque oggi a Nina indosserò questo vestitino che contiene anche il body praticamente che è veramente bello estivo con i fiocchetti e di OBS anche questo ci è stato regalato da Jennifer e dato che contiene già il body penso che le toglierò il suo oppure no, non lo so vabbè facciamo che lo lascio come body intimo ecco mettiamola così quindi intanto sbottono e poi dopo le andremo a pettinare i capelli allora dicevo beh quindi avrei tante cose da dirvi vabbè i vostri ringraziamenti li ho già scritti sui miei social quindi chi mi segue lì sa appunto quello che vi ho scritto io non smetterò mai di ringraziarvi perché comunque gli iscritti possono averli tutti cioè praticamente basta magari avere un po' un minimo di idee un canale abbastanza carino e gli iscritti magari anche il numero si può avere ecco però l'affetto che veramente voi mi date mi dimostrate ogni giorno ma anche i miei social e soprattutto in questo periodo la pagina delle Reborn quella Reborn Baby by Alice e Jenny vi lascio scritto qui il nome e comunque vi lascio giù nell'info box tutti i link eccetera mi state dando veramente tanta soddisfazione perché ci iscrivete sempre siete sempre in tantissimi e io sul serio non so come ringraziarvi anche Jennifer vi ringrazia ma ecco una delle novità presto mi vedrò con Jennifer perché io devo partire praticamente partirò il 10 agosto e starò via a Bologna circa due giorni 10 e 11 agosto perché devo fare una visita medica ma questo poi ve lo dirò in un prossimo video dove ve ne parlerò più accuratamente ma tranquilli nulla di grave e quindi già che lei abita diciamo lì vicino verrà a trovarmi appunto verso Bologna e quindi ci conosceremo finalmente perché anche se con Jennifer collaboro e lavoro da un anno non la conosco nel senso che non l'ho mai vista dal vivo guardate quanto è carina Nina con questo vestitino è troppo dolce veramente estivo bello i piedini li lascio scanzi perché fa caldo e niente le sistemo il bodino quindi è veramente bellissima adesso le sistemo un po' i capelli come vedete qui ho il suo spray quindi adesso lo vaporizzo lontano da lei che se voi non vedete lo vaporizzo così ecco qui e prendo la spazzolina sua che è questa qui bianca e le ripetino un po' e dicevo quindi verrà Jennifer e quindi le consegnerò Samuel e niente poi penso che anche filmeremo qualche video insieme poi le farò leggere tutti gli auguri che ci avete lasciato su Instagram per il compleanno di Samuel che si è il compleanno di Samuel ma in realtà è il compleanno di Jennifer come artista perché lei compie un anno insieme a Samuel appunto quindi io sono contenta che voi le avete dato tutto il vostro supporto il vostro il vostro amore e niente quindi penso che filmeremo qualche video insieme e no sono molto contenta perché sul serio non vedo l'ora di conoscerla è veramente una brava persona mi fido di lei e non ha mai deluso un cliente cioè le sue bambole sono bellissime voglio dire vedete Nina ecco immaginatevi ad averla voi è qualcosa di meraviglioso moltissimi mi chiedete il costo il prezzo come fare a contattarla ragazzi cioè io purtroppo lo dico nei video ma se voi non guardate il video non so come fare ecco ripeto per contattarla basta andare sulla pagina facebook rainbow baby by ellis e genio comunque se non avete facebook potete contattare me su instagram perché io vi rispondo e anche se non riuscite a parlare con lei potete parlare con me tanto è la stessa cosa perché le vendo appunto insieme a lei e niente queste bambole appunto hanno un determinato costo non sto qui a ripetervi i motivi io intanto me la pulisco un po' quindi vi avvicino anche un po' a voi ecco qui e si lo so che hanno un costo abbastanza elevato e vi prego di capirlo cioè voglio dire sono bambole che per farle veramente ci vuole tanto tanto tempo questo video è un po' così in realtà sia per farvi vedere meglio Nina perché me l'avete chiesto veramente tutti perché ho fatto solo il video unboxing con lei non c'è stato un vero e proprio video dove ve la faccio vedere così e niente io lei la adoro è arrivata da pochissimo quindi ce l'ho da pochissimo però è troppo bella sono letteralmente innamorata di lei anche le mie amiche ce l'adorano io pulisco anche in mezzo alle manine e niente se volete acquistarla anche voi appunto andate sulla pagina e contattateci e poi come avevo detto su Instagram proprio perché vi adoro e proprio perché mi state dando tante soddisfazioni in questo periodo da quando ho aperto il canale ho deciso insieme a Jennifer di farvi un bel regalo non posso dire nient'altro adesso se qualcuno però ha delle idee potete lasciarle scritte qua sotto ma presto penso che ci sarà un annuncio a parte quello del raduno quello è un annuncio poi ci sarà un altro annuncio vi do un indizio che vi farà capire già tutto giveaway giveaway non dico nient'altro ok è un mega regalo un regalo enorme penso che un giveaway di questo valore non ci sia mai stato nella storia di YouTube ma io e Jennifer abbiamo deciso di fare questa cosa ovviamente ci sarà un video dove vi spiegherò tutte le condizioni proprio perché il regalo che vi faremo ha un grande valore bisognerà seguire determinate regole quindi io ho finito perché quest'outfit di Nina è veramente molto semplice le rimetto il suo succetto e niente quindi lei è pronta io adesso la metto a nanna sto girando questo video praticamente che è notte quindi non nemmeno farò tagli ve lo carico così com'è e niente spero che vi sia piaciuto spero che voi continuate a seguirci a sostenerci così tanto vi ricordo che prestissimo ci sarà il video Ask Yo con Matilde dove risponderemo a tutte le vostre curiosità e vostre domande e niente io veramente vi ringrazio vi voglio un mondo di bene ah ps questa cosa che avevo fatto vedere nell'unboxing non è lo spray per capelli ma mi ha spiegato Jennifer che è un profumo che praticamente ricorda quello dei neonati cioè infatti mamma mia cioè ricorda tantissimo l'odore dei neonati e questo tu lo vaporizzi tipo sul vestitino e il bambolotto appunto d'ora di neonato e niente quindi queste cose le fa lei questi prodotti li fa lei come anche il latte finto e li mette nel box insieme alla bambola quando vi arriva e niente veramente adesso basta ho parlato troppo 10 minuti vi mando un grosso bacio grazie di seguirmi e vi voglio bene ciao a tutti ragazzi